Musica Addio comandante Bari in lutto per la scomparsa improvvisa di Nicola Marzulli, il sindaco De Caro. Averlo al fianco della nostra amministrazione è stato un onore, il cordoglio di Telebari e alla famiglia. Troppe antenne sulle nostre teste, l'ultima è stata installata nei pressi di Santa Fara, residenti preoccupati per gli effetti dell'inquinamento elettromagnetico, la denuncia del consigliere Fabio Romito. L'inceneritore torna in aula, dopo il nulla di fatto di due giorni fa in consiglio comunale le opposizioni chiederanno una nuova seduta monotematica. Faccia a faccia, subito dopo il nostro telegiornale, la prima puntata del talk politico di Telebari per conoscere alcuni dei candidati in corsa per il voto del 4 marzo. Ben trovati in diretta dalle studi di Telebari, saremo un'ora in vostra compagnia per commentare insieme i principali fatti della giornata. Bari è in lutto per l'improvvisa scomparsa del comandante della Polizia Municipale, Nicola Marzulli. Il nostro ricordo, vediamo. In questi casi si è soliti dire che i migliori se ne vanno, ma mai come questa volta non è retorica perché Nicola Marzulli era davvero il migliore. Il comandante per eccellenza, l'uomo simbolo della Polizia Municipale, un ruolo che ha ricoperto con estremo rigore morale e con grande spirito di servizio, fino a poche ore prima della sua scomparsa. Il classico uomo delle istituzioni, sempre in prima linea per il rispetto delle regole. Non è possibile rischiare la vita propria degli altri anche durante dei semplici spostamenti con l'auto in città per rispondere a una telefonata o a un messaggio in chat, il suo grande cruccio negli ultimi tempi, ma anche un monito da lasciare ai posteri. Non perdeva mai l'occasione per ripeterlo con l'unico fine di tutelare la sicurezza dei cittadini ai quali teneva come fossero tutti i suoi figli. Un malore improvviso ha spezzato la sua vita e la sua carriera a soli 66 anni e a pochi mesi dalla pensione per due volte comandante dei vigili del capologo pugliese. Nel 1999 sotto l'amministrazione di Cagno a Brescia e nel 2016 con Antonio De Caro, Marzulli aveva ottenuto il grado di generale. Per anni dirigente nella ripartizione sviluppo economico durante il governo emiliano era stato richiamato al comando della Polizia Municipale da De Caro lo stesso che lo aveva nominato alla guida dell'AMTAB dal 2015 al 2017 per risanarne le sorti dopo lo scandalo giudiziario che aveva coinvolto l'azienda di trasporto pubblico. E così è stato. Marzulli, laureato in scienze politiche e master all'Università Bocconi di Milano, per un periodo ha ricoperto anche l'incarico di comandante dei vigili urbani a Taranto e ad Alberobello. La strada, il campo di battaglia di Nicola Marzulli che in qualche occasione ha dovuto fare i conti anche con la prepotenza della criminalità organizzata affrontando in prima linea gli abusivi delle fornacelle in occasione della Sagra di San Nicola 2016. Orgoglioso della divisa che indossava Marzulli ha incarnato l'ideale di uomo delle istituzioni e allo stesso tempo di padre di famiglia sempre pronto ad interpretare le esigenze dei cittadini ai quali con garbo e gentilezza rispondeva in prima persona non sottraendosi mai ad alcun genere di critica o disapprovazione. È stato esempio di dedizione a lavoro, onestà rispetto delle regole e prossimità ai cittadini così lo ricorda il sindaco di Bari Antonio De Caro che aggiunge un onore averlo a fianco della nostra amministrazione. Un onore per tutti noi baresi averlo conosciuto e aver beneficiato del suo contributo alla cittadinanza. Noi vogliamo ricordarlo così, sorridente e fiero del lavoro dei suoi uomini in divisa in occasione dell'ultima festa di San Sebastiano. Ciao comandante, ti salutiamo così come a te piaceva essere chiamato. E tra le persone che hanno lavorato fianco a fianco con il comandante Nicola Marzulli c'è l'assessore allo sviluppo economico Carla Palone in collegamento telefonico con noi. Vediamo se siamo in grado di sentirla. Pronto? Sì, buonasera assessore. Una notizia che non avremmo mai voluto dare oggi ma che siamo costretti a commentare la scomparsa in provvisa del comandante Marzulli. Qual è il ricordo che ha il contributo soprattutto che Marzulli ha dato alla nostra città? Io personalmente ne ho tanti perché ho avuto l'onore di lavorare per due anni fianco a fianco con Nicola Marzulli, era il direttore della mia ripartizione, ha insegnato tanto a me, alla città e ha dato tanto alla città. Oggi perdiamo un grande uomo ma perdiamo un punto di riferimento. Perdiamo l'uomo della legalità ma anche quello dei sorrisi e degli abbracci che non faceva mai mancare a nessuno. Ecco, ciò che ha colpito della figura di Nicola Marzulli è stata proprio la sua vicinanza ai cittadini. Riusciva ad interpretare tutte quelle che erano le loro esigenze, una faccia a faccia con loro? Non si è mai tirato indietro, affrontava sempre tutto, dalle cose belle alle cose brutte, ricordo delle fornacelle, di quella guerra civile che in qualche modo ha fatto per la città ad accompagnare una signora ad attraversare la strada su un'ufficio pedonale, con Nicola Marzulli era quello. Rispettava tutti, teneva molto la divisa e io sono contenta insomma che sia riuscito a lasciare il contributo della sua vita con la divisa addosso. Benissimo, grazie Assessore, la salutiamo, grazie per essere intervenuta. Scusa ma sono momenti davvero particolari per me personalmente perché Rache è un mio grande amico ma è una notizia sconvolgente, quindi sappiamo che tutta la città lo abbraccia, io sono qui e non ci sono tante altre parole da poter dire in questo momento. Evidente, grazie Assessore, naturalmente il cordoglio di tutta Telebari alla famiglia del comandante Nicola Marzulli. Intanto sentiamo le parole di cordoglio anche del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dice l'improvvisa scomparsa di Nicola Marzulli mi addolora profondamente perdiamo un punto di riferimento della città di Bari, un servitore dello Stato un uomo che con abnegazione ha sempre svolto il suo lavoro per il bene della comunità dietro alla sua immagine rigorosa e sempre professionale c'era un uomo di grande gentilezza e umanità, qualità che oggi fanno avvertire la sua perdita come incolmabile alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che li hanno voluto bene giunga la mia vicinanza e queste sono le parole di cordoglio lo ripetiamo del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per l'improvvisa scomparsa di Nicola Marzulli, comandante della Polizia Municipale di Bari Il comandante Marzulli ha lavorato anche al fianco dell'amministrazione guidata dall'ex sindaco di Bari, Simeone Di Cagno a Brescia che noi dovremmo avere adesso in collegamento telefonico Onorevole, buonasera Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori Allora Onorevole, quali sono i suoi personali ricordi di Nicola Marzulli? Innanzitutto oggi sono svuotato perché è come se fosse caduta un pezzo di città Io ricordo che il primo impatto con Nicola Marzulli è stato io sono stato contravvenzionato per situazioni edilizie perché a un muro crollato stavamo provvedendo con urgenza alla ricostruzione magari senza aver fatto tutte le pratiche relative e ricordo che andai a discutere con lui una contravenzione che poi mi fece e nel momento in cui poi sono diventato sindaco e c'è stata poi la necessità di sostituire il comandante io ho pensato di dare un riconoscimento al corpo e quindi di scegliere il nuovo comandante all'interno del corpo della Polizia Municipale di Pari e quindi la scelta è andata su Marzulli proprio con il quale aveva avuto modo di vedere l'integerrimità, un uomo tutto di un pezzo ma nello stesso tempo molto disponibile un vero affezionato non solo alla città ma al corpo ma anche al suo ruolo che svolgeva con una signorilità, una competenza e un attaccamento incredibili Proprio per questo poi sicuramente per la sua grandissima professionalità e dedizione al lavoro Marzulli poi è stato rinominato nella successiva amministrazione a comando ai vertici della Polizia Municipale Lui soffrì molto il fatto di essere stato sradicato per un certo periodo dal corpo e portato in un'altra ripartizione del comune è ritornato a nuova vita purtroppo è brutto dirlo in questo momento quando è stato rinominato al comando del corpo di Polizia Municipale e avrebbe dovuto concludere lì la sua carriera purtroppo invece un triste destino lo ha chiamato prima e lo ha tolto all'affetto della città e soprattutto della sua famiglia Bene, grazie onorevole, grazie per essere stato in collegamento con noi Grazie a voi E a ricordare la figura di Marzulli c'è anche il segretario del PD Marco Lacarra dice che purtroppo vengono a mancare sempre le persone di cui abbiamo più bisogno e Nicola Marzulli, il nostro comandante della Polizia Municipale era una di queste mancherà a me e a noi tutti a Bari una figura come la sua, un uomo integerrimo, un barese che amava i baresi un militare dai principi indissolubili abbiamo perso un pezzo importante delle nostre istituzioni uno di quelli su quale la città poteva fare affidamento al di là della divisa che indossava dice Lacarra anche se tutti vogliamo ricordarlo proprio così con i suoi gradi sulla giacca e il cappello bianco e andiamo avanti il comandante Marzulli è stato anche il padrino lo ricorderete un po' tutti del nuovo sistema informatizzato delle attività di polizia locale per questa occasione era stato intervistato in una delle nostre dirette serali da Barbara Cirillo vediamo bene noi allora il collegamento non è ancora pronto noi ci fermiamo qui qualche secondo di pubblicità restate con noi per la nostra rassegna stampa ben trovati in diretta dagli studi di Telebari con noi a commentare i principali fatti della giornata Michele Cristallo giornalista e scrittore buonasera Michele buonasera allora lo abbiamo sentito poco fa abbiamo aperto il nostro telegiornale con la tradita notizia della scomparsa del comandante della polizia municipale Nicola Marzulli una perdita importante per la nostra città Michele beh certamente è una notizia dolorosa anche a considerare le circostanze nelle quali si è verificata alcuni colleghi mi raccontano che poche ore prima lo stesso generale Marzulli aveva partecipato alla conferenza stampa di presentazione del running la corsa per il cuore che si terrà a Bari domenica poi è un personaggio indubbiamente interessante lo hanno tutti fotografato molto bene un uomo tutto in un pezzo molto rigoroso e rispettoso delle regole noi i cronisti di Telebari lo ricordano certamente per le campagne contro i portoghesi nei bus le campagne contro la violenza sui bus la campagna contro la campagna per la sicurezza nella guida ecco il rigore nei confronti di chi alla guida d'automobile non non osserva non osservava le regole del codice della strada questa era proprio la sua crociata proprio la crociata contro coloro che alla guida smanettano sull'ipod o rispondono o parlano a telefono e quindi un personaggio del resto interessante anche per la sua storia professionale è stato per due volte comandante dei vigili urbani c'è stato un'apparenza in cui gli era stato affidato il dipartimento dello sviluppo economico del comune che lui ha svolto molto bene essendo laureato in scienze politiche e poi avendo anche all'attivo un master presso la Boccona di Milano quindi un personaggio competente con la professionalità necessaria e adeguata per assumere certe responsabilità quindi per il comune anche per il corpo della Polizia Municipale indubbiamente è una perdita una grave perdita La sua peculiarità era proprio il rapporto diretto con i cittadini lui scendeva in strada non esitava a confrontarsi con i cittadini che gli facevano delle rimostranze o delle richieste seppur di aiuto di semplice aiuto abbiamo visto anche negli ultimi mesi una presenza più capillare costante più costante più capillare in tutta la città della Polizia la Polizia Locale della Polizia Municipale soprattutto anche nelle giornate festive nei posti maggiormente frequentati dai baressi sia a pedoni sia in automobili quindi una persona che una perdita ecco per l'istituzione una perdita per il comune una perdita anche per i baressi che avevano imparato ad apprezzare il suo lavoro Secondo te Michele quale messaggio lascia Marzulli alla città? Lascia soprattutto il messaggio di consapevolezza delle regole e attenersi alle regole poteva sembrare un personaggio molto come dire rigoroso nel senso una sorta di sceriffo molte volte è stato anche criticato da qualcuno per il suo rigore invece il rigore che è necessario e magari lo facessero tutti benissimo Michele tra un poco riusciremo a collegarci con il sindaco di Bari Antonio De Caro ha annunciato un suo intervento intanto noi andiamo avanti con la politica un po' su tutti i giornali si discute dello scandalo dei falsi rimborsi del Movimento 5 Stelle dopo il caso dei parlamentari grillini che non hanno versato le somme quali ripercussioni secondo te la vicenda potrà avere delle ripercussioni appunto sui consensi dei simpatizzanti del Movimento 5 Stelle ma sarà difficile che questo episodio possa avere dei riscontri negativi sull'elettorato dei 5 Stelle il Movimento 5 Stelle indubbiamente in questo momento ha presentato un suo punto di debolezza e gli altri partiti gli avversari politici stanno bisogna dirla tutta stanno strumentalizzando questo episodio fanno il loro mestiere del resto però quello che è grave è che questo episodio del Movimento 5 Stelle sia pure interessante sia pure importante sta distraendo la classe politica i partiti dagli altri problemi i problemi non sono quelli del Movimento 5 Stelle o di coloro che fanno i forbetti sul rimborso è un problema che appartiene al Movimento 5 Stelle il problema sono i programmi dei partiti che non ci sono ancora non riescono ancora i partiti ad esprimere un programma serio e concreto al di là del libro dei sogni delle promesse eclatanti che costano decine e decine di miliardi chissà il bilancio dove andrà a prenderlo sono proposte poi che incideranno ancora di più sul debito pubblico e quindi sul rallentamento della ripresa che è lentamente in corso nel nostro paese non ci sono i programmi non si parla di lavoro si parla di lavoro così in maniera molto generica si parla della legge Fornero senza conoscere in profondità quale sarà il costo per l'Inps della legge Fornero quale sarà il futuro per il pagamento delle pensioni abolendo la legge Fornero piuttosto che attenuarne un po' le connotazioni non si parla di mezzogiorno oggi c'è stato un timido lancio sul tema lavoro sul tema mezzogiorno da parte di Massimo D'Alemo per Libere Uguali ha detto che nei prossimi cinque anni il programma di Libere Uguali è quello di destinare al mezzogiorno il 60% del bilancio stradale è una chimera è anche questa una promessa molto ottimistica basterebbe che il governo attuale sia oggi sia nei prossimi anni destini al mezzogiorno quel 34% che gli spetta per legge perché il mezzogiorno è il 34% della popolazione italiana e quindi ha diritto il 34% invece non è destinatario nemmeno della metà e quindi questi sono i timi e poi l'altro problema è la competenza e la professionalità abbiamo visto come sono state definite le liste nelle liste sono andati gli amici degli amici gli uomini d'azienda i fedelissimi senza tener conto delle competenze e delle professionalità perché il prossimo Parlamento dovrà avere delle persone competenti con una professionalità adeguata invece i partiti hanno pensato invece ad imbarcare una serie di yes man perché poi le decisioni saranno prese dai partiti nelle segreterie tra poche persone Benissimo Michele e bufera politica anche a Palazzo di Città dopo il consiglio monotematico sulla questione dell'inceneritore New Econ nella zona industriale tra Bari e Modugno conclusosi poi con un nulla di fatto le opposizioni naturalmente tornano ad attaccare la maggioranza che si difende ribadendo il parere contrario alla realizzazione dell'impianto alle porte di Bari dimostrato da atti amministrativi però già in estere questa vicenda dà l'impressione che il consiglio comunale di Bari stia giocando si identifica come una sorta di un gruppo di persone una comitiva alcuni il sabato sera vogliono andare in una discateca altri in un'altra poi discutono e alla fine non vanno da nessuna parte è accaduto così con l'inceneritori ci sono stati tutti quanti a parole sembravano d'accordo per dire no all'inceneritori ci sono state una serie di ordini del giorno ce ne sono stati quattro poi c'è stato un quinto ordine del giorno che ha riassunto i connotati degli altri quattro e stranamente poi è venuto bene il numero legale come spesso accade nel consiglio comunale di Bari quando si tratta di prendere una decisione responsabile e che vada nell'interesse reale dell'interesse dell'ambiente e dell'interesse reale dei cittadini l'inceneritore lo vogliono non lo vogliono finora a parole hanno detto tutti no però nel comportamento hanno lasciato il problema sospeso e ancora altro tasto dolente e la sanità gli appalti unici della sanità pugliese sono in ritardo leggevamo oggi su un articolo in chiesta di Massimiliano Scaglierini il policlinico proroga contratti addirittura per 80 milioni di euro e stiamo parlando di menze ma anche di forniture di materiale per le sale operatorie e ancora naturalmente le protesi ortopediche insomma il commissario del policlinico Ruscitti parla di ritardi legati a problemi tecnici e questo è una sorta di ritornello tutte le volte viene fuori questo problema tecnico quando si tratta di dare risposte su carenze e su inefficienze che sono purtroppo frequenti nel pianeta sanità in Puglia e non si può invocare la motivazione il ritardo di ordine tecnico i ritardi di ordine tecnico intanto vengono devono essere come dire preventivati devono essere programmati se ci sono e sono le analisi dei problemi sotto tutti gli aspetti sotto l'aspetto finanziario l'aspetto tecnico che vanno affrontati prima di di lanciarsi nella realizzazione di un programma ci sono le risorse finanziarie spesso non vengono utilizzate perché c'è i cosiddetti ritardi tecnici se poi ai ritardi tecnici aggiungiamo i ricorsi al TAR in tema di appalti da parte delle ditte che arrivano secondo al secondo posto nella definizione della gara un ricorso al TAR non si lega a nessuno come un caffè purtroppo e quindi è anche questo un altro motivo di ritardo e di ritardo in ritardo poi va a finire che le risorse finanziarie disponibili si rendano insufficienti Michele parliamo in cifra è scandaloso perché di 3 miliardi di euro l'anno addirittura il valore degli appalti nella sanità pugliese la regione vorrebbe risparmiare da 10 al 30% attraverso le gare centralizzate che però sono ferme addirittura da tre anni e anche questo se ne parla si fa accademia si annunciano provvedimenti però in concreto si rimane al palo e questo è inconcepibile in una società che ha l'ambizione di progredire è ancora più grave in un settore che deve assicurare all'utenza regionale la salute il benessere un'assistenza che sia degna di tale nome allora Michele andiamo avanti cambiamo un po' argomento un cenno alla polemica tra i giornalisti e il presidente del baricalcio Cosmo Gian Caspro uno scambio di battute lo abbiamo visto sui social iniziato alla vigilia della gara contro il Frosinone Gian Caspro parla di strumentalizzazione da parte della stampa che invece rivendica Gian Caspro incentiva l'odio contro di noi ma questa domanda forse andrebbe rivolta più al vostro Enzo Tambor che certamente darà una risposta più competente io da osservatore ho l'impressione che il presidente della società calcistica Bari abbia più a cuore la provazione della tifoseria piuttosto che la critica dei giornalisti i giornalisti sono per mestiere devono informare e devono informare bene quando le cose non vanno bene devono criticare devono stimolare perché si cambi registro si cambi svolta i tifosi invece hanno altri interessi altra natura guardano esclusivamente al risultato gridano quando il Bari perde si esaltano quando il Bari vince ma i giornalisti la stampa non ha questo ruolo il ruolo della stampa è un altro soprattutto quello di informare con onestà e in buona fede e fare il bene di quello che è il patrimonio comune e la società calcistica Bari è un patrimonio comune non è soltanto dei tifosi ma è anche di chi non va allo stadio di chi segue le avventure della squadra calcistica anche sotto l'aspetto del suo impatto sociale e anche dell'impatto economico sulla vicenda lo ricordiamo Michele sono intervenuti anche i sindacati della stampa è certo come no allora andiamo avanti parliamo di un'altra vicenda quella dell'aggressione al giornalista di Rai 1 durante nel corso di un'intervista al quartiere Libertà intervista rivolta alla moglie del boss che poi ha chiesto scusa la moglie del boss Caldarola c'è stato il genitore di quel ragazzo della scuola della scuola media di Foggia che ha pestato quasi a sangue il vicepreside e poi ha chiesto scusa c'è questa signora che ha aggredito la giornalista del Tg1 e poi ha chiesto scusa insomma non bisogna chiedere scusa non bisogna aggredire le persone non bisogna usare la violenza e questo è il come dire la linea guida di un comportamento civile è facile chiedere scusa dopo aver mandato in ospedale una persona e purtroppo nelle scuole si verificano episodi di questo genere non soltanto la parte dei genitori i genitori poi sono come dire una specie di didattica per i figli è recente l'episodio di quel ragazzo di prima media che ha aggredito la professoressa l'ha mandata in ospedale insomma ecco la scuola non è più come una volta il riferimento per l'educazione civile civica culturale dei cittadini sta diventando un come dire un luogo pericoloso dal cui bisogna difendersi la classe docente purtroppo nell'occhio del ciclone per questi episodi questi episodi vanno stroncati chiedere scusa dopo significa come dire è un po' il pianto del cocodrillo Michele sono forse i genitori che dovrebbero cambiare rotta nell'educazione ma i genitori una volta i genitori quando i figli venivano riproverati a scuola davano il resto quando rientravano a scuola adesso invece si scagliano contro l'insegnante perché l'alunno ha sempre ragione secondo secondo i genitori l'amore come dire per i figli è indubbiamente un valore però anche l'educazione dei figli è un valore ancora più importante bene noi ringraziamo Michele Cristallo per essere stato con noi a commentare insieme i principali fatti della giornata adesso qualche secondo di pubblicità restate con noi perché torniamo con nuove notizie grazie grazie buonasera grazie a tutti 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 la giornata è stata un onore il cordoglio di telebari alla famiglia troppe antenne sulle nostre teste l'ultima è stata installata nei pressi di Santa Fara residenti preoccupati per gli effetti dell'inquinamento elettromagnetico la denuncia del consigliere Fabio Romito l'inceneritore torna in aula dopo il nulla di fatto di due giorni fa in consiglio comunale le opposizioni chiederanno una nuova seduta monotematica faccia a faccia subito dopo il nostro telegiornale la prima puntata del talk politico di telebari per conoscere alcuni dei candidati in corsa per il voto del 4 marzo rieccoci in diretta dagli studi di telebari ancora in primo piano l'improvvisa scomparsa del comandante della polizia municipale Nicola Marzulli questo è il nostro ricordo in questi casi si è soliti dire che i migliori se ne vanno ma mai come questa volta non è retorica perché Nicola Marzulli era davvero il migliore il comandante per eccellenza l'uomo simbolo della polizia municipale un ruolo che ha ricoperto con estremo rigore morale con grande spirito di servizio fino a poche ore prima della sua scomparsa il classico uomo delle istituzioni sempre in prima linea per il rispetto delle regole non è possibile rischiare la vita propria degli altri anche durante dei semplici spostamenti con l'auto in città per rispondere a una telefonata o a un messaggio in chat il suo grande cruccio negli ultimi tempi ma anche un monito da lasciare ai posteri non perdeva mai l'occasione per ripeterlo con l'unico fine di tutelare la sicurezza dei cittadini ai quali teneva come fossero tutti i suoi figli un malore improvviso ha spezzato la sua vita e la sua carriera soli 66 anni a pochi mesi dalla pensione per due volte comandante dei vigili del capologo pugliese nel 1999 sotto l'amministrazione di Cagno a Brescia e nel 2016 con Antonio De Caro Marzulli aveva ottenuto il grado di generale per anni dirigente nella ripartizione sviluppo economico durante il governo emiliano era stato richiamato al comando della polizia municipale da De Caro lo stesso che lo aveva nominato alla guida dell'AMTAB dal 2015 al 2017 per risanarne le sorti dopo lo scandalo giudiziario che aveva coinvolto l'azienda di trasporto pubblico e così è stato Marzulli laureato in scienze politiche e master all'università Bocconi di Milano per un periodo ha ricoperto anche l'incarico di comandante dei vigili urbani a Taranto e ad Alberobello la strada il campo di battaglia di Nicola Marzulli che in qualche occasione ha dovuto fare i conti anche con la prepotenza della criminalità organizzata affrontando in prima linea gli abusivi delle fornacelle in occasione della sagra di San Nicola 2016 orgoglioso della divisa che indossava Marzulli ha incarnato l'ideale di uomo delle istituzioni e allo stesso tempo di padre di famiglia sempre pronto ad interpretare le esigenze dei cittadini ai quali con garbo e gentilezza rispondeva in prima persona non sottraendosi mai ad alcun genere di critica o disapprovazione è stato esempio di dedizione a lavoro onestà rispetto delle regole e prossimità ai cittadini così lo ricorda il sindaco di Bari Antonio De Caro che aggiunge un onore averlo a fianco della nostra amministrazione un onore per tutti noi baresi averlo conosciuto e aver beneficiato del suo contributo alla cittadinanza noi vogliamo ricordarlo così sorridente fiero del lavoro dei suoi uomini indivisa in occasione dell'ultima festa di San Sebastiano ciao comandante ti salutiamo così come a te piaceva essere chiamato è proprio così sorridente il generale Marzulli nell'ultima festa di San Sebastiano patrono della polizia municipale con la partecipazione di tutti quanti affollando le nostre strade riempiendo le nostre strade le città diventano molto più sicure controllo tutela e salvaguardia della sicurezza dei cittadini ma lei ha detto anche che la città di Bari deve diventare lo è già ma diventerà ancora più vitale grazie alla cura degli spazi e dei luoghi pubblici indubbiamente se noi continuiamo a riempire gli spazi vuoti se riusciamo ad evitare la velocità in città l'uso smodato di autovetture ma utilizzando dei mezzi più tranquilli sicuramente siamo più sicuri tutti il messaggio ai baresi il messaggio ai baresi è quello che a parte che il corpo della polizia locale ama la città di Bari lo si vede dalla loro presenza da quello che cercano momento per momento di dare ai loro concittadini tranquillità sicurezza purtroppo a volte siamo obbligati a sanzionare perché le regole vanno rispettate e allora rispettiamole autonomamente e nessuno punirà nessuno e questo è il messaggio del comandante Marzulli che porteremo sempre con noi andiamo avanti con le notizie torniamo a parlare dell'impianto di ossicombustione che dovrebbe sorgere nella zona industriale di Bari le opposizioni a Palazzo di Città chiederanno una nuova assituta monotematica del Consiglio Comunale sul tema Tutti dicono di no l'inceneritore non sa da fare ma se si vogliono guardare i fatti concreti ciò che resta è la chiusura della procedura amministrativa e l'ok all'autorizzazione Pasquale Dirella consigliere del gruppo Misso al Comune di Bari torna a parlare dell'impianto di ossicombustione che dovrebbe sorgere nella zona industriale di Bari tra coloro che hanno scelto di non abbandonare l'aula nella monotematica dello scorso lunedino Aula Dalfino rimane però con tante riserve nei confronti di una procedura che fa sorgere più di un interrogativo Non c'è da stare tranquilli potremo stare tranquilli i cittadini del quartiere San Paolo potranno stare tranquilli solo quando quella autorizzazione sarà stata annullata ad oggi non è stata ancora annullata per cui ad oggi l'inceneritore si costruisce mi permetti di dire anche che i cittadini di San Paolo non dovevano essere informati a posteriori qui abbiamo un'amministrazione da questo punto di vista molto attiva nel andare nelle strade nelle piazze a presentare rendering progetti futuribili da realizzare fra 30 anni 40 anni come mai non hanno pensato che fosse per loro doveroso andare a San Paolo e dopo le dichiarazioni dei componenti della minoranza ieri in conferenza stampa sulla possibilità di rivolgersi alla procura e la pronta replica del primo cittadino che si è dichiarato pronto ad accompagnarli una volta acquisiti tutti gli atti e la volta dei comitati che si oppongono alla costruzione dell'impianto noi ci rivolgeremo alla magistratura perché riteniamo che l'iter procedurale sia sotto l'aspetto formale e sostanziale possa contenere delle irregolarità mi riferisco in particolar modo a quelli che sono i principi che derivano dalla commissione di Arus sul diritto di informazione cioè faccio un esempio a ridosso di quell'impianto c'è uno svedale e Dirella torna sull'argomento ci stanno esponendo spiega ad una serie di rischi visto che le amministrazioni coinvolte hanno fatto sì che il procedimento amministrativo si concludesse e che la firma fosse apposta adesso avremo gli imprenditori che ci trascineranno nell'ennesimo contenzioso giudiziario e chiederanno i danni a chi? agli ingegneri che hanno messo i pareri a De Caro ad Emiliano a Grandagliano a Lamio no ai contribuenti baresi e pugliesi perché se dovessimo perdere un giudizio per il risarcimento dei danni saremo noi voi a pagare intanto a Palazzo di Città le opposizioni già pensano alla convocazione di un'altra monotematica dedicata al tema ma questa volta con l'inserimento nell'ordine del giorno di tutti i punti da loro richiesti consigliere riproporrete la monotematica sull'inceneritore beh io credo che riproporre la monotematica sull'inceneritore con un ordine del giorno che tra l'altro sia integrato anche diciamo delle questioni e delle domande a cui non è stata data risposta sia una cosa utile perché si deve arrivare ad una conclusione netta e se possibile condivisa tra tutte le forze del Consiglio Comunale credo di aver sbagliato con l'aggressione alla giornalista ma il dolore che si prova quando muore qualcuno che ti è caro e grande la giornalista doveva avere rispetto per il mio dolore invece ha insistito per 20 minuti per intervistarmi so che lei stava facendo il suo dovere come tutti i giornalisti ma quello non era il contesto adatto se fosse venuta un altro giorno avrei anche potuto farla l'intervista a questo momento particolare per me dopo l'aggressione di venerdì scorso la giornalista del Tg1 Maria Grazia Mazzola Monica Laera fornisce alla Gazzetta del Mezzogiorno la sua ricostruzione dei fatti la donna e la moglie del boss Lorenzo Caldarola dal portone racconta gli ho detto basta basta non è il momento e lei così me ne devo andare voleva conoscere a tutti i costi la storia di mio figlio e io non ci ho visto più andiamo avanti con la cronazione 2 kg di tritolo e gomitoli di miccia lenta combustione sono stati trovati nascosti sotto un muretto a secco nelle campagne di acqua viva delle fonti dai militari della guardia di finanza durante un controllo contro i traffici illeciti di rifiuti l'area è stata bonificata e messa in sicurezza dagli artificieri della polizia che hanno confermato la natura del potentissimo esplosivo potenzialmente pronto per l'utilizzo voltiamo pagina la RIF cerca dieci nuovi lavoratori attraverso delle agenzie per interinali una scelta considerata inadeguata dal Movimento 5 Stelle in presenza di altro personale in attesa di stabilizzazione il servizio di Roberto Maggi dalla ragioneria al recupero delle morosità dall'affidamento delle forniture alla distribuzione delle risorse l'ARIF l'agenzia regionale per le attività irrigue forestali cerca dieci unità di personale professionalità specifiche reca la delibera appositamente pubblicata per necessità di primaria importanza essenziali e fondamentali trascurando il fatto che il numero dei dipendenti dell'agenzia supera già abbondantemente il migliaio un'enormità sembrerebbe una banale necessità di coprire delle carenze di organico eppure a sollevare la questione ci hanno pensato i sindacati e la politica inadeguato continuare ad assumere lavoratori tramite agenzie di somministrazione per di più in piena campagna elettorale scrivono dal Movimento 5 Stelle per assumere i dieci lavoratori l'ARIF infatti si è rivolta a un'agenzia per interinali con cui va detto vi è già in piedi un contratto per la selezione del personale solo che la legge Madia vieta nuove assunzioni di lavoratori con contratto flessibile laddove vi siano ancora precari in attesa di stabilizzazione e il caso sarebbe questo se non fosse che fanno sapere dalla direzione generale dell'agenzia tra queste mancherebbero i profili professionali richiesti professionalità specifiche per necessità di prima importanza dicevamo prima una giustificazione a quanto pare non sufficiente almeno per la consigliera regionale pentastellata tanto nella laricchia che ha chiesto l'immediato ritiro e la sospensione delle delibere in questa agenzia nonostante ci siano diversi dipendenti che ancora sono in attesa di veder rispettati i loro diritti dalle stabilizzazioni al CID e quant'altro si continua ad assumere gente senza un piano del fabbisogno in piena campagna elettorale nel momento in cui mancano proprio le attività di manutenzione per esempio degli impianti irrigui per gli agricoltori e nel momento in cui mancano tutti gli strumenti adeguati per svolgere correttamente le attività forestali che servono a tutti i pugliesi bene adesso ci fermiamo per qualche attimo di pubblicità restate con noi torniamo ancora con nuove notizie ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo commentiamo insieme la mappa della precipitazione per la giornata di giovedì che sarà tutto sommato tranquillo al centro nord con assenza di fenomeni non ci sono i colori blu nemmeno sulla Sardegna indice di precipitazioni solo al mattino qualcosa all'estremo sud parte ionica e salento ma la perturbazione già dalla serata sarà sulla Grecia quindi anche qui tutto più stabile andiamo alla copertura nuvolosa ci fa vedere cieli sgombri da nubi in gran parte del centro nord solo qualche nube alta di passaggio sul settentrione invece eccola qui la perturbazione all'estremo sud colpirà specie parte ionica e salento con dei rigidi fenomeni ma già nel corso del pomeriggio sarà sulla Grecia e quindi tutto tranquillo entro la serata ecco qui la mappa in sintesi dell'Italia come ho detto ultimi fenomeni all'estremo sud altrove poco da segnalare freddo di notte massime comprese tra 8 e 12 gradi sul nostro paese i dettagli più precisi come sempre sull'app di Trebi Meteo e ancora ben trovati in diretta dagli studi di Telebari parliamo di inquinamento elettromagnetico di antenne che spuntano come funghi la denuncia è del consigliere Fabio Romito sentiamo consigliere spuntano antenne l'ultima zona piccone prosegue la sua battaglia sull'inquinamento elettromagnetico sì solitamente nelle foreste spuntano i funghi a Bari invece come i funghi spuntano antenne praticamente in tutta la città quartiere Piccone quartiere Carrassi nel centro cittadino praticamente ne sorge una ogni due tre settimane questo avviene perché perché a Bari non c'è un effettivo controllo rispetto alla alla la vera e propria tematica che sta alla base di questo problema qual è il nostro regolamento che dovrebbe dare delle regole precise e ferre a tutti gli operatori che vogliono installare delle antenne sul suolo cittadino ho chiesto in queste ore la verifica di tutte le autorizzazioni concesse negli ultimi sei mesi dal momento che il regolamento attualmente vigente che secondo me è deficitario in moltissimi punti prevede comunque che entro il 30 marzo di ogni anno si debba fare richiesta per installare delle antenne ora la domanda che mi pongo è la seguente tutti gli operatori che le hanno installate avevano effettivamente fatto richiesta al comune di Bari e soprattutto il comune di Bari ha vigilato rispetto alle antenne che sono state installate negli ultimi tempi io credo di no questo però potrò farvelo sapere molto presto e adesso una bella notizia che arriva dalla Università di Bari la società di ricerca AERA una delle più importanti società a livello mondiale nel settore dell'education ha conferito a Serafina Pastore ricercatrice in didattica generale presso il dipartimento di scienze di formazione psicologia comunicazione dell'Ateneo Barese il premio di Emerging Scholar è la prima volta è detto in una nota dell'università che un simile riconoscimento è conferito ad uno studioso italiano Serafina Pastore riceverà il premio nel corso dell'annuale conferenza che si terrà a New York nel mese di aprile il lavoro di ricerca verte sui temi della valutazione della qualità didattica del feedback della formazione degli insegnanti alla valutazione e la Puglia è protagonista della Borsa internazionale del turismo tenutasi gli scorsi giorni a Milano una tre giorni di successo per la nostra regione guardate tre giorni di successo per la Puglia turistica la Borsa internazionale del turismo tenutasi a Milano dall'11 al 13 febbraio grande affluenza di pubblico e addetti ai lavori nel padiglione tre della Fiera Milano City che ha visto la Puglia protagonista insieme alle principali realtà turistiche italiane numerosi gli appuntamenti in programma predisposti nello stand organizzato da Puglia promozione con cooking show degustazioni incontri B2B novità dell'edizione 2018 l'accordo innovativo sul turismo fra Puglia e Lombardia per l'attuazione di un piano comune per la promozione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica noi non siamo concorrenti ma siamo complementari come regioni i monti il mare i laghi la bellezza della costa e poi la bellezza della cultura così diversa tra un territorio e l'altro ma anche così intrigante allora lavorare insieme per promuoverci insieme all'estero significa unire le migliori prassi dei due territori e puntare sulla formazione per qualificare sempre di più l'offerta a raccontare le eccellenze del territorio benvenuti in Puglia l'iniziativa che ha presentato l'offerta turistica delle più importanti località pugliesi al pubblico alla stampa e gli addetti ai lavori tra le iniziative più importanti la presentazione dello spot della campagna di comunicazione multisoggetto e dell'intero coordinato grafico del brand del comune di Bari siamo circondati siamo circondati della bellezza e siamo noi stessi una perla nell'adriatico dobbiamo farlo capire a questo servono gli strumenti di comunicazione e attraverso lo spot che veicoleremo sul web nelle aree bersaglio europee ed extracomunitarie sia attraverso una campagna multisoggetto che ci serve per far capire che Bari non finisce mai una realtà ancora sconosciuta alla gran parte dei turisti e siamo convinti che è la strada giusta e oggi è San Valentino scopriamo quanti baresi festeggeranno il santo patrono degli innamorati e in che modo ci siamo è San Valentino allora andiamo a scoprire quanti baresi sono innamorati festeggerà San Valentino stiamo festeggiando perché siamo da Pado siamo tutti in vacanza no solo festeggiando da sola da solo sì festeggerà San Valentino no 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 single purtroppo sì beh è sempre bello festeggiare c'è sempre un momento buono e quindi perché no abbiamo peraltro delle posti molto belli ristoranti alberghi perché no non credo single no non solo single però il mio ragazzo è lontano quindi non penso che festeggerò quest'anno sì non il 14 per motivi di lavoro siamo lontani festeggeriamo sabato cosa regalerai al tuo dolce metà allora abbiamo deciso di non farci regali materiali ma di passare una serata insieme quindi cena per lottamento e colazione romantica non sappiamo ancora dove ma cosa hai pensato di regalare alla tua dolce metà probabilmente un giro in un parco costiero così io e lui cosa ti aspetti ti regali non lo so non ho idea anche perché forse le ha esaurite tutte non lo so lei cosa ha pensato di regalare alla sua dolce metà beh intanto un cuore un cuore dolce tutto per cominciare sono 30 anni di matrimonio anzi domani sono 33 anni che ci conosciamo quindi diciamo è un doppio anniversario diciamo che dopo tanti anni di matrimonio come il mio grandi regali non ne faccio mi basta la serenità di mio marito e dei miei figli invece cosa si aspetta di ricevere dal suo marito ma non lo so perché a me io amo le sorprese qualsiasi cosa va bene anche un fiore anche un cioccolatino va bene auguri allora sì grazie e allora lo avete sentito i baresi sono essenziali pochi regali tanti sentimenti a voi tutti un buon San Valentino bene noi siamo in chiusura ma subito dopo il nostro telegiornale non perdete l'appuntamento con faccia a faccia il talk politico condotto da Alessandra Bucci in vista delle prossime elezioni del 4 marzo grazie per averci seguito a tutti un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti